Un'iniziativa molto interessante, Motore Sanità, perché finalmente avvicina a noi clinici, ai nostri amministratori e ci permette di confrontarci su quelli che sono i problemi di ogni giorno. In particolare per l'endourologia, ovvero quella branca che tratta dall'interno tutti i problemi della via urinaria, un punto di fondamentale importanza, cioè tecnologia, sviluppo tecnologico e ovviamente sostenibilità dei costi. Noi abbiamo bisogno di materiali di alta qualità, non sempre tutto ciò che è nuovo è di fatto molto meglio di tutto ciò che c'era. Dobbiamo imparare a fare delle valutazioni molto precise, basate sull'evidenza scientifica, perché piccoli dettagli possono in realtà cambiare drasticamente il risultato dell'intervento per il paziente. Quindi dobbiamo chiedere sempre materiali ben testati, di grande qualità, non necessariamente costosi ma efficaci. Questo è il nostro obiettivo.